Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Si avvicina a grandi passi per Avigor Senigalli e il ritorno in campo dopo la pausa natalizia del campionato. I rosso-blu ripartiranno affrontando il Kansa, il Cinza e il Balonga, da secondi in classifica dopo il bel giro medandata disputato. Il successo è Genzano per 1-0 grazie alla rete messa a segno da Keriota, rappresentò la prima sorpresa del torneo in quanto ottenuta contro una squadra accreditata a lottare per il salto di categoria. A distanza di un girone, gli uomini di mister Aldo Clementi sopravvanzano i laziali di 5 lunghezze. Il difensore Enrico Maggi Galluzzi e l'attaccante Gianfranco Derrico non si fidano del Cinza e Balonga, una formazione piena di buoni giocatori. Stiamo preparando al meglio per questa partita, tosta. Sarà una partita difficilissima come lo è stata all'andata con una squadra di valore, con giocatori molto importanti e faremo di tutto soprattutto in casa per prendere il bottino pieno. Sì, una delle squadre più attrezzate sicuramente, all'andata ci avevano fatto una grande impressione ma saremo pronti ad affrontarli domenica. Entrambi i calciatori ammettono che il girone discendente si penserà a giocare partita per partita continuando a proporre un buon calcio senza porsi particolari obiettivi. Obiettivi stagionali, non ci prefessiamo nessun obiettivo, l'importante è pensare di vincere ogni partita poi ogni risultato lo accettiamo come viene. Personalmente di fare meglio del girone di andata e di avere un po' più di fortuna a livello fisico visto il momento difficile che ho avuto dopo l'infortunio. Allora, di obiettivi assieme al mister noi pensiamo partita per partita, non ci poniamo limiti, non ci poniamo obiettivi troppo a lungo termine. Quindi partita per partita proviamo a vincerle tutte. e speriamo di proporre sempre il buon calcio che abbiamo proposto fino ad ora. Non lo dico, non lo dico, è il mio obiettivo personale, me lo tengo per me.